In una domenica falcidiata da rinvie e con sole quattro partite giocate si è disputato il big match tra oltre poi Magenta, a sorridere i padroni di casa che grazie a un euro goal di Carlos Florenzianes volano in vetta la classifica in solitaria pur col Magenta che ha ovviamente da recuperare la partita contro l'ardor Lazzate. 1-0 il risultato finale in favore dei biancorossi in una gara condizionata da un campo pesante, ma giocata regolarmente dove anche il Magenta ha dimostrato di non essere in testa per caso, come peraltro già mostrato nelle precedenti partite, su tutte, nella vittoria del Fortunati a Pavia. Sorride l'oltre poi in una giornata dove ottengono anche importanti successi in chiave play-off sia la solbiatese che l'ardor Lazzate. I brianzoli si sbarazzano dell'FC milanese, la solbia vince contro la Calveirate superandola in classifica. 2-0 il risultato finale con le reti di Colombo e Locati, stesso risultato che i nerazzurri avevano ottenuto in coppa contro il Lignano Sabbiadoro. E ora la formazione di Rota proverà a prendersi la semifinale nella trasferta friulana. Cade invece il Saronno battuto in casa pur a Gallarate dalla Castanese. Per gli ospiti tre punti importanti in chiave salvezza, per gli amaretti suona quasi come una resa in chiave play-off.